Mi trovo nel cuore di Firenze, qui la chiesa di Orsanmichele, alla mia destra Piazza della Repubblica, oltre questo vicolo, vicolo di ferro, c'è Piazzetta dei Tre Re, è stata riqualificata e torna a nuova vita. Beh, la storia di questo luogo è una storia bella che racconteremo, spero a tutti, perché questa era una vera e propria latrina a cielo aperto, nel cuore del centro storico di Firenze, tra Piazza della Repubblica, Piazza Duomo e Via Calzaioli. Un luogo dove si veniva a fare tutto ciò che non si farebbe in nessuna area pubblica, che era completamente sottratto ai fiorentini. Devo dire grazie alla città, perché gli Angeli del Bello, fin dall'inizio, appena ci siamo messi in testa di recuperare, di restituire decoro questa piazza, si sono attivati. E così anche gli imprenditori. È stata una risposta della comunità fiorentina. Palmo a palmo noi ci riprenderemo tutta la città, non solo nel centro storico, ma anche nelle periferie. Luoghi abbandonati, dimenticati, lasciati al degrado e sottratti ai fiorentini. Il Comune è stato davvero efficiente in questa circostanza e così quest'area sarà la notte custodita perché ci saranno dei cancelli chiusi che verranno riaperti e sarà cura degli stessi abitanti e commercianti della zona. garantire l'accesso a questo luogo che rimane un luogo pubblico. Quindi ringrazio gli Angeli del Bello, ringrazio Quadrifoglio per la pulizia e il contributo, Serre Torrigiani che trasformeranno questo luogo in un piccolo giardino del centro storico e soprattutto i residenti e gli abitanti che hanno avuto pazienza e fiducia. Questo costume lo indosso perché orgogliosamente faccio parte della compagnia Babbo Natale e oggi siamo alla vigilia di Natale quindi è un giorno di regali. Serre Torrigiani prima di tutto dona questi cancelli a Piazzetta del Re e questa è la prima delle iniziative che seguiranno in questi mesi. Poi ci sarà una parete verticale che riqualifica in maniera bella, importante e verde questa piazzetta, uno street food che permetterà di far vivere questa piazza e tutta una serie di iniziative culturali che vedrà questa piazza risorgere al centro di Firenze e riavere quel prestigio che deve avere perché questa è una piccola gemma che è il centro di Firenze che era abbandonata a se stessa. Quindi mettere dei cancelli non per escludere ma per accogliere e per togliere semplicemente l'arbitrio e il degrado di cui era vittima questa piazzetta.